anche qui se vuoi però è un po' un disagio potrei fare una partenza donk tipo anello pesco tanto per insultare la sua intelligenza vabbè io pescherò così imp delle fiamme ho il defender davanti grande imp lo ammazzo con questo o con questo? tu mi spieghi perchè giochi con carta? quale carta? la peggiore carta dello storico ma quando è l'ultima carta che ho in mano su 4 danni gratis si quando è l'ultima eh vedrai potrei giocarla anche adesso? no non posso perchè si dai hai ragione no 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 poi questo pesca quindi eh gay non posso errore eh vedi a non pensare succede anche questa roba qua vabbè andrà a killarmi questo immagino se è donk mi chilla questo se ancora più donk mi va in faccia si dipende dipende lo so perchè potrei fare un'ombra a fuoco ecco no vabbè aspetto lascio che si sovraestenda che ne dici? io lascio che si sovraestenda che ne dici? io lascio che si sovraestenda si dai mi sembra una cosa ragione che vuoi dai mi sembra una cosa ragione che vuoi sai ah non male non male non male ah si 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 tipo questo tipo questo ho un modo di dare più no più una delle mie creature attacco ombra a fuoco no questo qua non mi pensai pari sul questi cazzi bravi il loot dai ecco facciamo una rush si dai vai e mettere su anche il loot si dai ci sto facciamo una rush vediamo che arriva in fondo qui si il dottorio la legge il dottorio si insiste a andare ci eh ah adesso deve fare un trade ah zingoo no zingoo ah zingoo si becca quella ho ventimila carte in mano io ma costa nordania nordania ottima idea vittoria nordania sa chi è chi nordania sa zingoo sa candelut order ok ci sto ma sai che mi tenta un po ma dici lo fa lui da solo sono delle mie creature tanto sono pieno di carte in mano il nordagna è stato un 2 per 1 sono 8 danni in faccia questi proprio così schifo non mi fanno ma curo 20.000 vite ok poi vengo anche uno di armatura e ti faccio un danno voglio morire ma evocatrice minuta questa ci sta, questa ci sta sempre poi questo ci sta altrettanto sempre e poi anche questo ci sta sempre ah questo è un demone sei fuori si infatti è al disagio chiudo chiudo fino alla fine ah no per sempre la tua magia non ti salverà vabbè cosa di più intelligente arson ordania sembra più gay allora aspetta aspetta potrei dare più uno a questo e fare un trade fare questo grosso e killarne uno e mi tengo il nordagna per lo schifo che lui giocherà dopo mi sembra ragionevole no 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 questo lo ammazzo così questo gli do più uno più uno con la chierica del sole e il nordagna me lo tengo per quello che lui giocherà dopo ah la città peccato che erano due in mano però così ma no è fortissimo ma no questa è una carta forte eh boh time walk è fortissimo ok eh fixano sti bugger io non ce l'avevo che gli dita ho la quattro gioco ah ah PC 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 è a 13 con questi due è a 5 quindi non è che ha tanta vita ok spazzata ci sta te la concedo poi anche questo te lo concedo poi madonna è a 13 ar si prende due danni facciamo i conti allora 2 4 6 più 8 14 va 5 aspetta 8 14 va 5 più sacrifico ah sotto solo i servitori va 5 6 7 8 9 va 5 però io non lo so cioè questo me lo tengo vediamo spina ordania in your face o no ordania in your face vittoria 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 vediamo se lui mi fa 12 danni in un turno da niente in campo è forte questo che faccio facciamo anni 18 ecco vabbè eccellente bam bam e questo ombrafuoco perfetto 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 stiamo a tre carte in mano pari ma pesca ma figa devi pescare madonna solo vacche ci sono rimaste si prende 4 danni 6 a 9 6 a 5 tutti i servitori nemici infatti è fortissimo mi tocca vabbè vabbè si dice effettivamente vai un'altra vacca eccolo figlio giocare uno che silenzia no avrei già vinto a tre ore vabbè vabbè come si vabbè 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 questo si chiama crederci uno due dai giocami un'altra vacca dai con defende con provoke dai un'altra eccolo un'altra perché ci prova ha ragione ha giocato un 7-4 tirata è questa partita magari vince lui perché ha sto schifo di abilità però ma no bella giocata ah eh gay vabbè si anche vincere con lo stregone è un po' un disagio posso fare stregone oppure qual è l'altra per fare la missione sciamano sai che forse non so vediamo grazie a tutti grazie a tutti